A Castel Beseno, anche quest'estate protagonista è la manifestazione Porto Beseno in programma, questo weekend è il prossimo. Viaggio tra fonti storiche e sorgenti web è il sottotitolo dell'edizione 2019 di Porto Beseno, il festival organizzato dall'Associazione Culturale Liberamente, che ha abituato il pubblico a un'immersione inaspettata tra sonorità contemporanee e rimandi storici. Due weekend, sabato 15 e domenica 16 giugno è il successivo. Il via è contrassegnato da installazioni, audio, video e foto. Nella serata del primo sabato due live set fino a tardanotte, poi nel weekend successivo una rassegna di canto libero organizzata nella località Vecchio Mulino a Dietro Beseno, dove lo stesso pubblico sarà chiamato a cimentarsi nel canto singolo di gruppo, organizzato spontaneo per quello che si preannuncia come un grande happening di insieme. Un'idea comune, il simbolo della sorgente come elemento vitale della montagna, come origine e come flusso che unisce i due fine settimana, quest'anno totalmente diversi tra loro per format, contenuti e luoghi, anche se non viene dichiarata ma lasciata scoprire passo passo dallo spettatore. Viaggio tra fonti storiche e sorgenti web è la mission che da sempre accompagna il festival, così come le attività laboratoriali legate all'ascolto consapevole dei suoni ambientali e delle storie di comunità svolte in maniera continuativa a livello locale e nazionale. E quest'anno l'immagine evocativa della fonte entra anche nei contenuti dei concerti e delle installazioni.